I Looney Tunes presentano Guida agli Sport, il ciclismo di montagna! Vuoi sapere come si diventa un ciclista di montagna esperto proprio come me? Beh, ecco quali sono le regole fondamentali! Devi essere veloce, ti aspetto con calma al traguardo! Devi idratarti! Devi adattarti a trovare soluzioni alternative! Il ciclismo di montagna è davvero faticoso! Devi proprio migliorare la tua soglia anaerobica, caro! Che cos'è questa soglia anaerobica? I nostri muscoli consumano ossigeno producendo una sostanza detta acido lattico Più i muscoli lavorano, più producono acido lattico E quando raggiungi la soglia anaerobica, l'acido si accumula mentre l'ossigeno nel sangue cala Facendoti sentire affaticato! In altre parole... Non ce la fai più! Ti senti esausto, ti vengono i crampi, tremi tutto! Non riesci più a vedere bene! Perciò, se vuoi migliorare la tua soglia anaerobica Devi allenarti duramente per mesi e migliorare la tua capacità di resistenza! Altrimenti, ecco quello che ti aspetta! Quindi io mi sono allenato! La mia soglia anaerobica adesso è alle stelle! In pratica ora sono il migliore e niente può fermarmi! Ehi! Beh, eccetto forse un piccolo guasto tecnico!